Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box 6 Grammi Pentium Pacchetto 10 per V-Box 6 Grammi Pentium Pacchetto 10 per la casa, ufficio, famiglia, desktop PC, computer, completo pacchetto con 19 monitor, altoparlanti, tastiera mouse totale, impacchettare e includere 64-bit Windows 8.1, 3.0 GHZ Intel Pentium 2030 Grammi Dual-Core processore, 8 Gramm-Bretagna Off-DDR3333 MHz RAM, 1000 Gramm-Bretagna Hard Disk, scheda grafica booster chip integrato in motherboard. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.